Settimana scorsa vi ho portato una ricostruzione con quella che secondo me è la migliore squadra di FC25, ovvero il Brighton. Andate a recuperare il video in caso ve lo foste persi. Quest'oggi siamo dentro con una squadra che mi avete consigliato voi, ovvero il Marsiglia, che all'interno della squadra ha effettivamente dei giocatori molto molto interessanti, ma per una ricostruzione ha bisogno di un po' di lavoro. Siamo dentro dunque a una nuova no mercato challenge dove andremo a ricostruire il Marsiglia senza fare calcio mercato in entrata, solamente utilizzando i giocatori che abbiamo in rosa, che siano in prestito o che siano prestati. Riusciremo a vincere in quattro stagioni la Ligue 1 e qualcosina in Europa? Scopriamolo insieme in questo video. Essendo una no mercato challenge farò delle scelte impopolari che non dovrete condividere in caso vogliate fare una carriera allenatore classica come il Marsiglia. Per esempio, per quanto riguarda la porta, abbiamo Ruben Blanco, Rulli, 79, che ha 32 anni, quindi probabilmente calerà. Paul Lopez, che fra quattro anni potrebbe diventare 33enne, ha un 79 di overall, però vi dico la verità, io mi sento di puntare su Jeffrey Delange, ex portiere dei Go Ahead Eagles, e che ha 26 anni, è un 73, quindi di base, quando avrà 30 anni, potrebbe diventare, secondo me, anche un 80 di overall. Per quanto riguarda i terzini, abbiamo che Garcia non mi interessa, Merlin, invece, è tanta tanta roba, ma decideremo tra poco il da farsi con lui. Passiamo alla difesa centrale. Benba non è per niente male come difensore, ma in questa no mercato challenge voglio utilizzare altri elementi più giovani, come Balerdi, che ha 25 anni, è un 79, come Brassier, che è in prestito dallo Stade Brestois, lo riscatteremo, ma abbiamo anche Bamomeite, che ha 22 anni, è un 73, quindi me lo accollo. Sulla destra, poi, non abbiamo dei terzini, secondo me, interessanti, quindi sia Lirola che Murillo sono in vendita. Questo vi fa già pensare a quello che potremmo fare, ovvero un cambio modulo molto interessante, ma proseguiamo. Al centro campo abbiamo Hoiberg, che ha 28 anni, un 80 di overall, potremmo anche tenerselo, ma sappiamo già che è fortissimo. Proviamo qualcun altro. La stessa cosa vale per Ronchet, la stessa cosa vale per Condogbia, che non è fortissimo, è un 79 di overall, e la stessa cosa vale per Rabiot. Voglio, infatti, dare spazio a Selamy e Gael Lafon, ma non solo, perché abbiamo Bilal Nadir e Ismael Kone, tutti giocatori giovani che non hanno degli ottimi overall, ma voglio affidargli le chiavi del centro campo per vedere se da questi quattro ragazzi possiamo tirarci fuori dei futuri talenti. Sugli esterni abbiamo Luis Serdike, che è fortissimo, 22 anni, 75 di overall, e Emran Soglo, 18 anni, 65. Sulla destra, invece, abbiamo Greenwood, Ro, Muge, Abdallah, ma abbiamo anche Valentin Carboni. Avete visto quanti giocatori d'attacco abbiamo? E anche qua, come prime punte, abbiamo Wai, che sarà sicuramente il titolare. Come primo sostituto, non Mumbagna, che daremo in prestito, bensì Enzo Sternal, 17 anni, 61. Credetemi, questo è davvero intrigante. Ma Enzo, quindi, come hai deciso di gestire il modulo con tutti questi giocatori? Scopriamolo subito. Chiamatemi pure pazzo, ma questa voglio che sia il Marsiglia di questa challenge. Folle, una formazione davvero, davvero folle. Per dare importanza a Merlino, lo trasformeremo esterno di sinistra, spostando Luis Enrique esterno di destra. Allo stesso tempo andiamo a spostare Greenwood ala di destra e Carboni ala di sinistra, così avrà il suo spazio. È un po' controproducente perché, appunto, Carboni è mancino, ma lo è anche Greenwood, quindi alla fine sacrifichiamo Carboni. Carboni non posso utilizzarlo esterno di destra perché ci mette tantissimo a diventarlo. Avrei potuto spingere un pochettino di più Luis Enrique, che so di per certo può crescere molto. Lo sacrifichiamo un pochettino in questa zona. A quel punto avremo come sostituti Soglò sulla sinistra al posto di Merlino, Rho come ala al posto di Carboni, Mughe sulla destra al posto di Luis Enrique, e Abdallah sulla destra al posto di Greenwood. Per quanto riguarda il centrocampo, vado con Sellami e con E, e questa sarà la nostra difesa. Sono un pazzo? Sono un pazzo. Ma così almeno proviamo dei giocatori intriganti che potrebbero darci delle soddisfazioni. Benissimo, ho riscattato tutti coloro che dovevo riscattare, che mi interessa studiare più da vicino, come Jonathan Rho. Ma non solo, anche Carboni e Brassier. Come volete vedere, però, Rho è diventato un ala di sinistra, Carboni ancora no. E quindi Carboni rischia di rallentare un pochettino la sua crescita. Per il resto, però, tutti gli altri giocatori li abbiamo gestiti al meglio, e quindi questa sarà la nostra formazione per la prima stagione. Ringraziamo tutti i calciatori che ci hanno servito fino a questo momento. Grazie, ragazzi! Come avrete notato, comunque, il Marsiglia è un bel mix di giovani e giocatori esperti, che già nelle prime stagioni potranno darvi grandi soddisfazioni. L'unico ruolo dove mi è sembrato un pochettino carente potrebbe essere la porta. Anche in difesa, sicuramente nel corso degli anni, qualcosina in più si potrebbe fare. E occhio soprattutto al terzino destro, che io ho eliminato proprio perché non avevamo nessuno di eclatante. Non è stata una grande stagione, se posso permettermi. Pensavo meglio, non credo di essere retrocesso, però, insomma, vediamo. Siamo arrivati a Ottavi. Oddio, forse in realtà non è andata malissimo. Ottavi non è un cattivo risultato. Forse per il Marsiglia lo è. Si meriterebbe qualcosina di più, ma negli ultimi anni... 49 punti in 34 partite. Comunque i punti sono veramente, veramente pochi. E sono molto, molto curioso di vedere la nostra titolare. Eccola qua. Uh, vedo già qualcosa di molto, molto strano. Come per esempio l'overall di Carboni. 73. Non ha praticamente fatto punti overall in più. Non mi dire che ha giocato Raw. Andiamo a vedere in porta. Jeffrey Delange. Qualcosina di buono l'ha fatto. Anzi, molto più di qualcosina. Si è leggermente bloccato, però, forse, forse, alla fine dei 4 anni, all'80 ci arriva, come avevo predetto. Bene Balerdi, bene Brassier, bene Meite, che alla fine ha giocato titolare insieme a Cornelius. Per quanto riguarda Mirlino, 37 partite. Molto, molto bene. Titolarissimo. È cresciuto anche lui di circa 3 punti overall. Soglò 25 presenze, ma non è cresciuto molto. Qui a centrocampo, alla fine, Coné mi ha fatto all'incirca 3 punti overall. È cresciuto discretamente anche Nadir, se non ricordo male. Anche lui 3 punti overall. In generale, i nostri centrocampisti, a parte la FON, ce la sono gestita. In zona offensiva, Luis Enrique è diventato un 79. Buona crescita. È Raw, ragazzi. Raw è stato il titolare. È diventato un 77. 14 gol e 3 assist. E adesso, per Carboni, si fa durissima. Greenwood è diventato un 83 con 9 gol e 12 assist. Qua davanti, Sternal, solamente 2 punti overall in più. Probabilmente, dandolo in prestito, crescerebbe meglio. Ma voi segnatevi comunque questo nome. E poi, guai, è già diventato un 81. Più 4 punti overall. Vado memoria. 15 gol e 6 assist stagionali. E alla fine, con i 3 là davanti, sono stati i migliori. Anche se Luis Enrique, subito dietro, ha fatto molto, molto bene. Siamo all'interno della seconda stagione. Sono rientrati, ovviamente, molti giocatori in prestito. Vediamo se c'è qualcuno che può fare al caso nostro. Paolo Lopez, come già detto, ci avrebbe fatto comodo. Però sono curioso di vedere questo De Lange, come continua a crescere. Quindi, a questo punto, lo facciamo proprio volare, Paolo Lopez. È tornato Gigiotto. Che vendiamo? Per quanto riguarda la centrale, direi che restiamo così. Contento per Merlino, che sia diventato un 80. Per il resto, a centro campo, Aritmi è ancora in prestito. Speravo potessero crescere un pochettino di più, perché sono molto giovani. Su FC24, credo, sarebbero cresciuti molto di più questi ragazzi. Qua davanti, come vi avevo già detto, anche quest'anno terrà conto la sfida tra Valentin Carboni e Jonathan Rowe. Con Carboni, che non dico che le stia buscando dall'ex Norwich, ma ci stiamo andando molto, molto vicini. Però posso dirvi una cosa. Sono contento. Jonathan Rowe non l'ho mai provato. Carboni sappiamo che bene o male può crescere molto. Anche se vi dico la verità, io non sono un super fan di questo ragazzo. Per il momento si parla tanto di Carboni, però non ha ancora, secondo me, dimostrato tantissimo. Poi, per carità, se tanti allenatori ci vedono qualcosa di buono, la verità la avranno dalla loro parte. Però, per me, deve ancora far vedere molto. Qui davanti, ovviamente, rimarremo con Greenwood e Wai, titolarissimi. Quindi, ceduti sia Gigiò che Paolo Lopez. Paolo Lopez, tra l'altro, ha la Roma per una bella cifra. La nostra titolare, alla fine, rimane tale, tranne appunto per la questione Rowe Carboni. La mia speranza è che Sellami possa crescere molto di più. Ha 18 anni. Ho paura, però, che Nadir gli possa fregare il posto. Guardate Sellami. 5 stelle monse abilità, 5 stelle piede debole. Meriterebbe di fare più minuti, purtroppo. Vogliamo dar Nadir in prestito, raga? Ci vogliamo provare? Dai, proviamo. Beh, guardate che bello. Alla fine, Bilal Nadir è andato allo Stade Reim. Quindi, io me l'accollo tantissimo. Rimane in Francia. Non si allontana troppo. E lo teniamo sott'occhio. Di base, ci troviamo davanti a una seconda stagione migliore rispetto a quella dello scorso anno. Siamo arrivati quarti. E infatti, e infatti, e infatti, e infatti, sarà Europa League. Perché in Francia, le prime tre vanno in Champions. Però, ci stiamo avvicinando alle prime posizioni. 61 punti. 63 in Nizza. Si poteva fare qualcosina di meglio. Ma noi, come sempre, ci interessa studiare la nostra formazione. E vedo qualche cosina di interessante. De Lange, purtroppo, nonostante tutte le partite da titolare, non è cresciuto molto. Solamente un punto overall. Sono discretamente soddisfatto della mia centrale. Perché Balerdi e Brassier sono arrivati entrambi a 83. Ma soprattutto è cresciuto molto Bamo Meite in queste due stagioni. Sembrava un giocatore un po' così, che poteva non darci delle gioie. Invece, all'80 ci arriva e, secondo me, può fare anche meglio. Forse mi aspettavo qualcosina in più da Merlino. Due punti overall in più. Ma soprattutto, come primo sostituto, mi aspettavo qualcosina di più da Soglo. Sellami, ma cioè, alla fine ha giocato la Fon, ragazzi. Ma dai, ma io non ci posso credere. Allora, ok, con E. E' diventato un 78. Va bene, Nadir è in prestito, è diventato un 70. Sellami, io sto facendo di tutto per farti giocare e, alla fine, gioca la Fon. Cioè, 8 presenze per Sellami. Ma io cosa ti devo dire? Allora, nel gioco, non pensa che tu sia così tanto forte. Luis Enrique 81. 8 gol e 6 assist. Ro è diventato un 82 con Valentin Carboni dietro. 76. Ragazzi, alla fine, Ro quello che deve fare lo fa. 12 gol e 7 assist. Greenwood 87, esagerato. 23 gol e 4 assist. Sternal, una sola presenza. Gioca solo UAE, che è diventato un 84. 19 gol e 8 assist. Per questa terza stagione voglio provare a fare una cosetta. Ovvero, è tornato a Ritt, quindi possiamo, secondo me, farlo volare. Anche lui, di base, era un giocatore che potevamo tenerci. In una carriera normale l'avrei tenuto, l'avrei trasformato tra quartista. Insomma, giocatore sempre, comunque, talentuoso. Molto, molto intrigante. Voglio provare a dare in prestito Carboni. Per vedere, un giocatore che ha perso la dicitura di a buon potenziale, però, secondo me, può crescere in prestito. Il potenziale rimane comunque alto, quindi vediamo cosa può fare in un'altra realtà dove trova spazio. Ro nel frattempo è diventato un 83. È donato anche Bumbagna, anche lui, utilizzato, partiva con 24 anni, secondo me, poteva fare molto, molto bene. Continuiamo a darlo in prestito. Qui al centrocampo, se la mi, io non posso lasciarti come unico trequartista. Ma, attacchi, posso dire, attacchi. È tornato Nadir, gli diamo spazio. Però, comunque, se posso dire la mia, se la mi rimane un giocatore interessante, che prima o poi riproverò. Perché, sono convinto, possa crescere molto. Meitier non è ancora diventato un 80. Ci diventa in tre settimane se lo mettiamo stopper. Sono curioso di vedere dopo quanto può crescere. Attenzione perché, in realtà, siamo in Champions League. O meglio, abbiamo le qualificazioni in Champions League contro il Feanor. Nel frattempo, ci sono state un paio di novità, perché Carboni dovrebbe essere andato... Intanto, Abdallah, possiamo darlo in prestito senza nessun tipo di probleme. Dicevo, Carboni dovrebbe essere andato al Wolverhampton in prestito per un anno. Quindi, vediamo come se la gestirà. Ma, soprattutto, ho visto che si è infortunato UAE. E questo potrebbe essere un dramma. Fuori sei settimane, malattia. Malattia? UAE? Madonna mia, cosa è successo? Quindi, potrebbe essere arrivato il momento di Sternal. Curiosissimo di vedere se, in questo periodo, magari riesce a fare qualche punticino overall in più. Perché, come vi ho già detto prima, secondo me, se non ci fosse stato UAE, questo ragazzo sarebbe potuto crescere molto. Nel frattempo, andiamo a scoprire se saremo in Champions League. Questo dovrebbe essere il primo turno di qualificazione. L'andata contro il Feanor la vinciamo 1-0. Il ritorno contro il Feanor la vinciamo comunque. Molto bene. Questa è una vittoria prestigiosa. Beh, ragazzi, prestigiosa sta cipa di minchia. Io non so il mio cervello a cosa stesse pensando nel momento in cui ha visto il risultato finale. Ma abbiamo perso, siamo stati eliminati. E siamo in Europa League, quindi dovremo sfidare Newcastle, Sociedad Roma, Braga, Entra Francoforte, Olimpiakos, Craiova e Karabag. Porca misere, ragazzi. Che finaccia. No, vabbè, finaccia. Siamo in Europa League, per carità. Però, che finaccia io? Sto invecchiando. E se vede. Terza season conclusa. Risultatini interessanti. Per quanto riguarda l'Europa League, ci siamo fermati a marzo contro il Fenerbahce. Andiamo a vedere, però, Minterella ho vista. Me la sono spoilerata. La classifica. Siamo arrivati secondi. E quindi il prossimo anno sarà Champions League certa, sicura. Tra l'altro ha quattro punti dal PSG, ragazzi. Rischiamo alla quarta stagione di ribaltare il dominio in Francia. Mi fa molto, molto piacere. A questo punto, però, piacerebbe sapere... Siamo arrivati almeno ai quarti. Mio Dio, agli ottavi. Oh mio Dio, non ci capisco mai niente. Agli ottavi abbiamo perso contro il Fenerbahce. Tra l'altro Fenerbahce... Ancora? Tra l'altro Fenerbahce che ai quarti ha battuto il Lens. Cioè, l'ammazza francesi, mi verrebbe da dire. Non è vero, il Lens ha vinto. Ma, insomma, perché... Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo se le sperimentazioni che abbiamo fatto sono servite. Perché a De Lange non è cresciuto più. E purtroppo Meite è arrivato all'80 e si è, non dico bloccato, ma mezzo bloccato. Beh, cavolo. Almeno all'81-82 forse ci arriva. Contento per Merlino che comunque 83 poteva fare di meglio. Sì, rimane comunque un ottimo giocatore. So, quello è diventato un 72, ha giocato qualcosina di più? Forse sì. Se la Mi continua a non essere il preferito del gioco. Non so perché. L'importante però è che Iconese sia arrivato all'80. Questo molto bene. Badate bene. Luis Enrique utilizzato da Ala sarebbe diventato bestiale. Sarebbe già diventato, secondo me, ai livelli di Raw. Che è diventato un 80, 6, 12 gol e 4 assist con Carboni. Che fa due punti overall. Proviamo a richiamarlo. Vediamo cosa succede. Non fa punti overall, ma si è bloccato. No, in realtà no. In realtà non si è bloccato. Ma Raw ormai è diventato inarrivabile. Greenwood è diventato un 90. Mostruoso. Sternal è diventato un 69, ha giocato 32 partite, ma non è cresciuto moltissimo. Wai è diventato un 87 con 21 gol all'attivo. Greenwood, ragazzi, è devastante. Mamma mia. Ma ma Sternal ha 19 anni, 111 settimane? No, ragazzi, non è possibile. Guardate che Sternal ha un ottimo potenziale. Ma che strana sta cosa. Guarda stagione che, come spesso accade, ci faremo con tutti gli effettivi in squadra. E quindi ci lasciamo anche a Mombagna. Perché sì? Perché ci può dare una mano. È un 78, vicino al 79. Va benissimo. Ci teniamo anche Carboni. E vediamo se qualcuno di questi può toglierci qualche soddisfazione. Mi ha dato un'occhiata ai piani di crescita. Meizze è vicino all'81. Secondo me poi più in là di così non ci arriva. La stessa cosa vale per Cone. Molto probabilmente Cone mi arriva all'82 e non ci sorprenderà più. Cose diverse invece per i ragazzi qua davanti. Sia Luis Serrique che Merlin potrebbero fare qualcosina di più. Sicuramente Raw all'89 potrebbe arrivarci. Però sotto nei commenti, se vi va, fate il vostro pronostico sugli overall. Nel frattempo noi abbiamo una Supercoppa francese. Una Supercoppa francese. Ma cosa abbiamo vinto? La Coppa di Francia lo scorso anno. Me la sono persa? Ma no ragazzi, non l'abbiamo mica vinta. Forse perché siamo arrivati i secondi. Secondo me ha vinto tutto il Paris Saint-Germain. Andiamo a simulare la Supercoppa. Perdiamo 2-1. Ma pure Averc hanno Dembélé, Averc e Greenwood all'89. Vabbè. Finalmente siamo all'interno del giro un zone di Champions con Copenhagen, Ferenc, Varos, Malmo, Liverpool, BVB, Inter, Lepsia e ancora il Fenerbahce. Tacci vostri. E anche la quarta stagione l'abbiamo portata quasi a termine. Sono a rischio esonero ma ho tolto l'esonero. Abbiamo due partite. Nizza e Saint-Etienne. Andiamo a vedere un attimo la classifica al volo. Perché siamo terzi, terzi con la possibilità di fare 6 punti. Se il Lans perdesse entrambe le partite e noi le vincessimo entrambe, arriveremo nuovamente a secondi. Quindi non saremo campioni di Francia. Ma mi sono tenuto due partite perché voglio provare tanti giocatori e quindi ne giocheremo due. Per quanto riguarda la Champions League, siamo arrivati undicesimi. 13 punti. Come potete vedere ragazzi la classifica è curtissima. Anche per esempio il Leverkusen ha 13 punti ed è arrivato al diciassettesimo. Cioè sarà un disastro. E siamo arrivati ai playoff contro il Copenhagen. Abbiamo vinto. Quindi agli ottavi abbiamo perso contro il Lipsia. Per quanto riguarda poi i nostri ragazzi, c'è anche un aspetto che non abbiamo considerato effettivamente. Non ve ne ho parlato all'inizio del video. Questa volta, a differenza della non mercato challenge fatta con il Brighton, che nuovamente vi invito a recuperare, la crescita dei calciatori è impostata su media, non su alta. Quindi questa è una crescita effettivamente media. Cosa vuol dire che siamo veramente, veramente simili a FC24. Con i difensori centrali, quelli un pochettino più promettenti che crescono. Quelli un pochettino nel limbo fanno fatica, come Meite, Delange, lo stesso Coney, che in realtà è una crescita positiva. Poi nelle zone offensive abbiamo sempre dei giocatori che crescono molto. In questo caso Ro, Wai e Greenwood. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Delange alla fine è proprio uno di quei portieri da utilizzare se siete in difficoltà, in una carriera in cui si parte dal basso, perché non è che sia un portiere spettacolare. Il suo sporco lavoro lo fa. Balerdi è diventato un 84, ha 29 anni. Non mi lamento per niente. Molto bene Brassier, che alla fine è diventato un 85, quindi abbiamo fatto bene a puntare su di lui. Alla fine Meite comunque è un discreto difensore. È un peccato che a 26 anni sia praticamente bloccato in un limbo di 81 di overall. Merlino è diventato un 84. Forse da terzino sarebbe potuto crescere di più. Non lo sapremo mai. Rimane comunque un ottimo giocatore come Soglo, che voglio andare a provare, e che ha degli ottimi dati atletici. Lo teniamo d'occhio. I nostri centrocampisti centrali, Vali Lafonse, Lamie, Nadir, non sono cresciuti molto, a differenza di Coné, che è diventato comunque un 82 e me lo accollo tantissimo. Bel giocatore, tra l'altro talento naturale. Questi altri centrocampisti ce li hanno dei... Non ce li hanno. No. No. Non ce li hanno. Luis Enrique è diventato un 85. Spettacolare. Dati assurdi. Vediamo un attimo i numeri. 10 gol e 5 assis per Coné. 8 e 9 per Luis Enrique. Non mi aspettavo niente di Kedda Muguet, che comunque è diventato un 70. Jonathan Rowe, 25 anni, 88 di overall. 11 gol e 4 assist. Forse una delle sue peggiori stagioni a livello di numeri, ma dati impressionanti. Rapido, passo veloce. Carboni, alla fine, è rimasto un 79. Si è bloccato il ragazzo. Peccato. Abdallah 70. Greenwood 91. Madre de Dios. 18 gol e 8 assist. Spettacolare. Non vedo l'ora di provarlo. Ale, buttaglielo uno stile di gioco. Stenar un 69, Bombagna un 80 e Wai è diventato un 90. Ho buttato un occhio oltre i numeri alle statistiche, ragazzi. Le statistiche di Wai sono assurde e da una vita, da una vita, da quando esiste, lui ha Acrobata come stile di gioco. Non so come mai, ma anche lo scorso anno aveva Acrobata. Ma Wai è uno che fa spesso queste giocate? Proviamolo. Andiamo in campo. E per la partita contro l'inizio ci andiamo con quella che è la miglior formazione che abbiamo costruito fino ad ora. Contro il Sant'Etienne andremo con tutte le seconde linee. Quindi andiamo in campo. Sembra sul pezzo. Forza Marsiglia. Nadire. Se ne va nello stretto. Guarda questa palla per Ro. Curiosissimo. Veramente di provarlo e se ne è andato alla grande, Ro. Orcaboi. Ma che stecca è? Che stecca è? Ma giallo? Oh, ma stai tranquillo. Fra. Agitatissimo. Ma chi è? È un folle questo. Abdel... Abdel... Ab... Ab... Vabbè. Greenwood alla battuta. Contro Berleno. Va Greenwood. 1-0 Marsiglia. Non sbaglia Maison. Attenzione a ciò. Sono uscito molto, molto male con Brassier. Centralmente Willow Kilmancino. Delange. Nadir. Bella la verticalizzazione per Merlino. Attenzione perché Merlino può sfuggire all'avversario. Merlino, al centro c'è Wai. Wai. Ercaboi ha voluto provare proprio... L'acrobata. Nadir. Ancora Ro. Ancora Ro. Ancora Ro. Ancora Ro. E ancora Wai. Acrobata. E la colpisci così. Ma scusami, eh. Sono Willow. Ancora centralmente. E questa volta Nadir. Con una bella stecca. Ferma l'avanzata dell'ex... Oh mio Dio. Willow che giocava nel Newcastle. Sì. Mares. Porca boia. Vabbè. Pareggio. Oh invece no. Ho preso la barriera grazie al cielo. No. C'ho ancora. E questa volta. Muffi. Pareggia per il Nizza. Niente da fare. Sì ma. Ci ha bruciato. Ha servito un bellissimo pallone al centro. Bravi tutti. I nostri avversari purtroppo. Ma che intervinto è? Ma gamba tesa. Ma cos... Ma... 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 Ma sono dei... Ma sono dei... Dei matti. Wai. Con E... Non ci credo. Ma no. Balerdi. Col braccione. Col braccione. Capitano. C'ho... Contro De Lange. Spiazzato. L'ex portiere dei Gohead Eagles. Roo. C'è andato bene. Sessione Wai. In profondità. Wai. Al centro. Proprio per Roo. Arriva il pareggio allo scadere. Bella questa azione. Bello questo pareggio. Ti posso... Cioè. Di base... Non dico che ci sta stretto. Perché non abbiamo avuto grandi occasioni. Ne abbiamo giocato bene. Soprattutto quelle là. Dove ho fatto un po' il minchione con Wai. Per provare... Lo stile di gioco. Potevo sicuramente finalizzarle. Però bene qua. Wai e Roo. Sono stati... Veramente veramente bravi. E quindi alla fine. Col Nezza. Ci esce. Un 2. A 2. Difensivamente. Vabbè. Roo. Wai. Greenwood. Quelli là davanti. Molto bene. Valerdi. Mi è piaciuto tanto. E mi è piaciuto tanto anche con E. No. Mi sono piaciuti. Mi sono piaciuti. Nessuno... Niente di negativo da segnalare. Oh mio Dio. Ma sono proprio un coglione. Sono andato avanti. Ma che scemo sono. Vabbè. Vado nella prossima stagione. E quindi alla fine quanto sono arrivato? Terzo. Vabbè. Un punto dalla Lanz. Siamo nel torneo precampionato della quinta stagione. Contro il Bayern Monaco. E ci andiamo con tutte le seconde linee. In difesa e in porta. Non avevo nessuno. Che faceva parte della prima squadra. Della prima stagione. Quindi andiamo in capo così sempre sul pezzo. Forza. Marseille. Diciamo che questo avversario era più forse per la prima formazione però. Noi ci proviamo. La Fon... Sternal. Bella la gestione. Ottima la palla per Carboni che può andare in... No. Non può andare tanto in velocità. Pedro Porro se l'ha magnato. Soglou. C'è il movimento di Carboni. Che è in fuori gioco. Ma stai in gioco. Stai. Esci del Ange. Bravissimo. Che rischio. No ma guardate come se è andato Frimpong. È ingestibile. È ingestibile Frimpong. Del Ange. C'è la mia ancora. Attenzione perché è passato in qualche modo. Sternal. Sternal. Baccher. Non si passa. Sternal. Sternal. La Fon. Abdallah. Ma che controllo è Abdallah? Ma va a scurze. Si riparte dunque. L'obiettivo è quello di rimanere svegli. Dopo 45 minuti. L'altro ha preso in campo. Cosa fa Musiala? Ma cosa fa Musiala? C'è ha preso ed è andato. Io non ho parole. Sì ebbe se n'è andato. Non mi porto a casa a nessun punto. Se l'ha mia. Carboni. Carboni. Carboni in mezzo. Pallazza Carbo. Pallazza. Pallazza. Dovevi darla meglio. Eccoci qua. 2-0. Musiala. Oh. Oh. La Fon. Madonna Baccher. Ma chi cazzo non la sei Baccher? Mortacci tua. Mamma che pertugi che trovano. Questi sono dei folli. Questi sono dei matti. Ma vai Carboni. Ma vai. Ma vai. Che la palla non era male. Finisce qui. Abbiamo preso la rumba. Però. Se posso dire la mia. Io ho trovato. I centrocampisti. Giovani. Veramente. Veramente. Interessanti. Se la mi. E la Fon. Ragazzi. Io. Vi dico questo. Provateli. Provateli. Non mi ha impressionato Carboni. Ha fatto molta. Molta fatica. discreta. Soglò. Una buona prestazione. Invece. Secondo me. Sternal. Ha dovuto lottare. Il modulo. Poi. Era molto scoperto. Ragazzi. Di nuovo. La Fon. Se la mi. Se avete occasione. Di farli crescere. Perché a partita. Non so. Da una serie B francese. Poi fatemi sapere. Come vi troverete con loro. Secondo me. Hanno. Qualcosina in più. Rispetto agli altri. Ci vediamo in un prossimo video. Un saluto alla mezza prossima. Ciao a tutti ragazzi.